buongiorno a tutti sono qui per condividere il mio nuovo progetto che è il maglione Moby di Petite Knit. Moby è un maglione Aran disegnato appunto da Petite Knit o meglio da Metevonbo Ocle una danese eccola qui ecco qui lei ecco qui il maglione e come tutti praticamente i progetti di 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 Mete è legato alla sua vita Moby anche Moby è stato realizzato infatti per il suo quinto figlio da indossare nel settembre del 2022 in occasione del battesimo ma si è rivelato così bello che sono stati pubblicati praticamente subito i diagrammi per tutte le taglie baby mini junior adulti e sul sito di Petite Knit sono praticamente a disposizione i modelli di Moby da 0 a 100 anni e sono in fase di pubblicazione anche i diagrammi specifici per le taglie maschili. Il maglione Moby è un classico Aran lavorato però secondo lo stile di Petite Knit cioè dall'alto verso il basso con un filo di mohair e ho fatto un piccolo campione di inizio si inizia praticamente lavorando lo sprone dietro partendo quindi dall'altezza del collo con vari motivi di trecce, mockables che è questo punto qui centrale che non so come si traduca in italiano ma che sembra quasi una rete da pesca perlomeno a me ricorda questo la classica grana di riso eccetera. Come dicevo si inizia dallo sprone dietro e si modella l'inclinazione delle spalle con dei ferri corti alla tedesca si prosegue quindi poi dopo aver modellato la spalla si prosegue lo sprone dietro fino al sottobraccio dopodiché si lasciano i punti sospesi su un filo e si vanno a riprendere le maglie della spalla io l'ho fatto qui si vanno a riprendere eccolo qua vedete ho ripreso le maglie della spalla e si inizia a lavorare lo sprone anteriore aumentando aumentando per creare il tondo del eccolo qua aumenta per creare il tondo e il tondo dello scollo si prosegue per la spalla a sinistra poi la spalla a destra si uniscono e si continua lo sprone anteriore anche qui fino al sottobraccio dopodiché tutto il tronco viene lavorato e tutto il tronco viene lavorato in tondo si riprendono i punti per le maniche si riprendono anche i punti per le maniche che vanno anche questi lavorati in tondo con quattro ferri o con i ferri circolari io preferisco con la tecnica del magic loop anche le maglie dello scollo si riprendono per si raccolgono si raccolgono le maglie per lo scollo e si lavora un bordo a coste che poi viene ripiegato verso l'interno e fissato lavorando le maglie assieme al bordo di ripresa ecco qua ogni modo guardiamo con proprio attenzione i punti di questo modello abbiamo la classica grana di riso una costa a punto a dritto ritorto che delimi due coste a punto di ritorto che delimitano che delimitano una costa alle una fettuccia chiamiamolo così a legaccio una classica treccia una classica treccia a otto punti e poi questo motivo mockables appunto che non so quale sia la traduzione in italiano e anche qui uguale la grana di riso eccetera quale lana ho deciso di utilizzare per fare questo progetto ho deciso di utilizzare delle lane consigliate da Petitni e delle lane danesi quindi allora la prima è questa la prima è questa che è un che si chiama Densk Pelsuld 5,5 barra 2 Dengraf T che significa praticamente Densk Pelsuld vuol dire pelliccia danese e Dengraf T significa pesante questa è una lana filata da un'azienda appunto da un'azienda danese la Yellow Hould Spinnery un'azienda a conduzione familiare fondata nel 1878 che è ancora gestita dalla stessa famiglia Yellow praticamente che ormai penso sia mi sembrava fosse già la quarta generazione di gestione e come tutti quanti i filati di questa azienda è anche questa Densk Pelsuld è realizzato col cento per cento di lana filata appunto da loro la lana utilizzata è una lana proveniente dalla pecore Gotland che sono anche quelle rappresentate nell'etichetta unita a una piccola quantità di lana merino proveniente dalle isole Falkland che la rende più morbida e più piacevole al tatto la lana di queste pecore Gotland è caratterizzata dal fatto di avere delle fibre molto lisce e lucenti e questa pecora è una delle razze ovine dalla coda corta tipiche del nord Europa si chiama Gotland perché Gotland è un'isola della Svezia e queste queste pecore sono queste Gotland sono originarie praticamente della 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 Svezia sono pecore particolari anche da pelliccia che hanno la testa e le zampe prive di peli e il colore della lana va dal grigio argento fino al marrone scuro questa Densk Pelsuld è confezionata in matasse da 100 grammi per una lunghezza di 275 metri a matassa è consigliato lavorarle con i ferri dai 3,5 ai 4,5 e la tensione di lavoro per un campione di 10 cm x 10 cm fatto con ferri 3,5 è di 21 maglie per 28 ferri nell'etichetta trovate anche poi le istruzioni per il lavaggio consigliato il lavaggio con acqua tiepida non più a non più di 40 gradi eccola qui questo filato ho deciso di unirlo a questo mohair della a questo mohair della knitting for all live eccolo qua ecco questo filato è il colore il numero 19 ma nel sito trovate una carta di colori abbastanza ampia colore 19 che il beige è chiaro e questo filato qui è il della knitting for all live il colore è il lino knitting for all live anche questa è un'azienda di copenhagen danese quindi danese di a conduzione familiare fondata da madre e figlia nel 2015 nasce come un'azienda che vende vende modelli per maglieria e poi a un certo punto decide di offrire i propri clienti anche i filati per avere un'esperienza migliore nel lavorare i modelli che già loro vendevano e filati però che sono di altissima qualità realizzati con fibre naturali pure e create nel totale rispetto sia di animali che dell'ambiente in particolare questo questo filato che è un è un soft silk mohair soft silk mohair è formato da 70 per cento di mohair e 30 per cento di seta e tutti i mohair di questa azienda provengono da capre allevate nel sud africa secondo appunto di questi altissimi standard di qualità l'unione di questi due filati da appunto questo che è molto morbido e piacevole al al tatto oltre che anche a un aspetto morbido anche alla vista stessa eccolo qua questo è tutto per il momento corro a sferruzzare e vi terrò aggiornati sui progressi di questo progetto ciao